Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo calcolare il seguente limite, limite per x che tende a 0 di logaritmo naturale di 1 più 3x fratto e elevato alla 3x meno 1. Osserviamo che come argomento del logaritmo naturale abbiamo 1 più 3x, al denominatore invece abbiamo e elevato alla 3x meno 1. Compare quindi questo fattore 3x sia al numeratore che al denominatore. Operiamo quindi la seguente sostituzione y uguale 3x. Osserviamo che il limite per x che tende a 0 di y è uguale al limite per x che tende a 0 di 3x. Questo limite è uguale a 0. Possiamo a questo punto riscrivere il nostro limite iniziale effettuando un cambiamento di variabile. Vediamo quindi che tutto è uguale al limite non più per x che tende a 0, ma per y che tende a 0 di logaritmo naturale di 1. Dovremmo scrivere più 3x, ma 3x è stato posto uguale ad y, quindi 1 più y tutto fratto e elevato alla 3x, quindi e elevato alla y meno 1. Ricordiamo adesso due importanti limiti notevoli e precisamente il limite per x che tende a 0 di logaritmo base a di 1 più x fratto x che è uguale al logaritmo base a di e e il limite per x che tende a 0 di a alla x meno 1 fratto x che è uguale al logaritmo naturale di a. Allora, torniamo adesso al nostro esercizio e vediamo come usare i limiti notevoli appena presentati. Quindi possiamo scrivere che abbiamo il limite per y che tende a 0 del logaritmo naturale di 1 più y fratto e alla y meno 1. Possiamo moltiplicare adesso l'argomento del limite per y fratto y. Rescriviamo tutto e abbiamo il limite per y che tende a 0 del logaritmo naturale, quindi logaritmo naturale di 1 più y fratto e alla y meno 1. Visto che in questo caso il limite del prodotto è uguale al limite per y che tende a 0 del logaritmo naturale di 1 più y fratto e alla y meno 1. Guardiamo adesso i limiti notevoli precedentemente proposti. In riferimento al primo abbiamo il limite per x che tende a 0 del logaritmo base a di 1 più x fratto x. Il risultato è il logaritmo base a di e. Nel nostro esercizio abbiamo il limite per y che tende a 0 del logaritmo naturale, quindi logaritmo base e, di 1 più y fratto y. Il risultato è quindi logaritmo base e di e. Infatti se abbiamo il numeratore logaritmo base a, nel risultato avremo logaritmo naturale di e. Quindi 1. Possiamo quindi scrivere che il nostro limite iniziale è uguale ad 1 per il il limite per y che tende a 0 di y fratto e alla y meno 1 o che è lo stesso di 1 fratto e alla y meno 1 fratto y. Tutto questo è uguale a 1 fratto il limite per y che tende a 0 di e alla y meno 1 fratto y. A questo punto osserviamo che il limite per x che tende a 0 di a alla x meno 1 fratto x è uguale al logaritmo naturale di a ed abbiamo nel nostro esercizio il limite per y che tende a 0 di e alla y meno 1 fratto y. Quindi tutto questo è uguale al logaritmo naturale di e che è uguale ad 1. Mentre infatti nel limite notevole avevamo a elevato alla variabile che tende a 0 e nel risultato logaritmo naturale di a, nel nostro caso abbiamo e elevato alla variabile che tende a 0 e quindi il risultato è logaritmo naturale di e, cioè 1. Il risultato finale del nostro esercizio è quindi 1. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita.